Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower, ho molti follower. Giro, a volte sotto casa vedo molta gente, guardo cosa ha musica, vedo divertente, non mi so mai dire, non so mai che cosa dire, ma quando la incontro è una figa da impazzire. Dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Milano, con te, con te, che mi piaci di più, con te, con te, che mi piaci. Mi son girato un attimo, ho guardato il cellulare che la figa da paura ha iniziato già a scappare a Milano, lei è già a Milano. E da allora non abbiamo più niente da dire, da allora non abbiamo più niente da fare, da allora ci dobbiamo solamente incontrare in virtuale, in virtuale. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower, ho molti follower. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower, ho molti follower. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower, 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 ho molti follower. La gente che balla e forse anche ha fregato il tempo, se stessa capire, divertirci, ci piace, ci piace stare assieme e strusciarci. Però non abbiamo coraggio di dirci le cose, quelle solo in virtuale, dove non possono far male. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower, ho molti follower. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente, ho molti follower. Mail, post, casino, giri giù in rete, mi piace la gente. Ho molti follower.